Ciao, stamattina ti saluto da questo bellissimo posto che sono nella nuova struttura di Milano-Porta Nuova che tra l'altro al mattino si gode il silenzio e la luce del sole. E oggi ti volevo parlare in breve della consapevolezza e movimento verso se stessi. Magari ti capita che la giornata la riempi con tante attività che alcune volte non sono tutte indispensabili. È giusto per crederti, per illuderti che fai tanto, che stai creando tanto ma in fondo poi a fine serata non sei soddisfatto, non sei contento. Perché? Perché manca la consapevolezza, la consapevolezza del presente che è quella che ti fa scegliere, ti aiuta a scegliere di ciò che veramente fa per te e quindi il movimento spesso è verso l'esterno, verso le attività che ti porta lontano da te lontano dai tuoi bisogni, da veramente ciò che desideri. E quindi il mio invito oggi è di fare attenzione a ciò che veramente si muove all'interno e lasciare che questa sia l'espressione verso l'esterno. Altrimenti è un fare, è essere in superficie e appunto aver poi dopo questa frustrazione, questa delusione a fine giornata. Fai attenzione, ti auguro una buona giornata e ricordati che solo il presente, solo la consapevolezza nel presente ti fa scegliere il giusto, il giusto che fa per te. Ciao, buona giornata!